Ecco cosa succede, troppe macchine sostate sulla variante impediscono la visuale a chi cammina ed ecco scoppiare il primo incidente, nonostante il comandante avesse detto che non c'è assolutamente pericolo facciamo notare che le auto in sosta qui creano grossa difficoltà di visuale a chi proviene dalle strade laterali e infatti è quell'incidente si doveva verificare per forza ma sono 20 minuti che è avvenuto questo incidente, hanno chiamato già i vigili ma sono 20 minuti, sono le 3, l'incidente è avvenuto almeno una ventina di minuti fa ma ancora non si vede nessuno la strada è assolutamente liscia e tutte le auto parcheggiate in sosta hanno impedito a chi usciva da questa strada da via Luigi Sturzo, che esce da via Luigi Sturzo ha la visuale bloccata perché ha le auto parcheggiate a sinistra e destra e quindi è impossibile vedere ed il botto era inevitabile per fortuna che il comandante ha detto che questa strada le macchine in sosta non danno fastidio non creano incidenti, ci deve scappare come sempre prima il morto